Famiglie, lavoratori, precari, pensionati, giovani e lavoratori immigrati sono le categorie che più stanno subendo la crisi economica produttiva ed occupazionale. Ne sono convinti i rappresentanti della CGL Puglia che chiedono a gran voce un vero governo che faccia scelte concrete di ridistribuzione delle risorse. In occasione dell'assemblea regionale a Bari Susanna Camusso, segretaria generale della CGL, ha parlato di contrattazione territoriale e democrazia sui ma non solo, dura la sua posizione sul federalismo fiscale. Ciò che non va bene del disegno del federalismo fiscale che questo governo continua a sostenere è quello che è un provvedimento che divide le regioni e che utilizza dei parametri che metterebbero in difficoltà molta parte delle regioni costruendo un divario crescente tra il nord e il sud, cioè il federalismo fiscale deve essere un'opera di solidarietà e di ridistribuzione, non può essere un'operazione per cui chi è più ricco si tiene le sue risorse e gli altri vanno in difficoltà. E non è mancato il commento sulla manifestazione delle donne di domenica scorsa che ha definito una giornata straordinaria per dire basta al governo Berlusconi e difendere la propria dignità. Un popolo di donne ma non solo ha detto che nessuna di noi è più disposta a farsi rappresentare come i comportamenti del Presidente del Consiglio le rappresentano, non solo per un riconoscimento necessario della dignità personale ma perché questa immagine fa male al Paese, fa male alle sue prospettive di crescita, fa male al giudizio internazionale che c'è su di noi, come è evidente basta scorrere i titoli dei quotidiani stranieri di ieri.